cadendo dall'alto l'entità isabella si manifesta presso il cerchio e seno di cui chi scrive attualmente testimone questa foto cadendo dall'alto è stata materializzata durante una riunione di trance isabella è trapassata giovana ed è stata madre di tre figli trasmette le decisioni dei maestri riguardo le persone che possono essere ammesse alle riunioni anna una partecipante assidua dell'esseno chiese isabella di poter avere la medaglia che appare nella foto e isabella la portò prelevandola dalla sua tomba adesso anna indossa la medaglietta e isabella la mette spesso in contatto con massimiliano il figlio trapassato di anna